salve a tutti ragazzi perdonatemi il ritardo ma con la scusa ho avuto modo di sbollentire sbollentare un attimo quattro pari andrebbe d'italia piuttosto pirotecnico spettacolare a livello di di reti tanto quanto di emozioni caresse contento fabio caressa non voleva uno zero e definita quattro pari c'è una cosa incredibile dal nostro punto di vista dal punto di vista di noi interisti ovviamente c'è un rimpianto pazzesco perché da 4 a 2 quattro pari una partita comunque che se hai dovuto di nuovo rimontare vantaggio 1 a 0 poi 2 a 1 poi vai 4 a 2 dici boh mo la chiudi invece no poi è stata riaperta per di più abbiamo pure rischiato di perdere se non di fare anche noi quinto gol questa partita nel diciamo nel totale nel nei miei pensieri in tutte le cose ma siamo tornati al 2022 al 2021 2022 come stagione perché mi sembra lì quell'inter lì la prima inter di inzaghi troppi gol stupidi subiamo nel senso di fronte avevi la juve non avevi lo young boys che già anche con lo young boys abbiamo rischiato sempre di subire gol e non abbiamo subito per fortuna o per qualunque altra cosa ma stasera c'è primo gol il secondo il terzo il quarto tutti tutti partiti da azioni veloci soprattutto flavio con 6 sao che superava tutti sono stati deboli in questo tipo di di azioni qua da di dispiaciuto e dice che 44 tiri 4 gol per carità però parte che ci sono mangiato un sacco di gol stranamente poi due rigori a favore due rigori a favore con la juve non li vedevo da non so non è mai successo forse nella storia due rigori nella stessa partita per di più figure di già averne uno era fantascienza tempo fa però erano rigori netti cioè rigori che io personalmente non quello di di turam il primo non darei ma sono stati dati tanti un calcetto su appunto in anticipo e dal calcetto vabbè lo dai il secondo poi c'è stato un mezzo falo di mano di dunfries subito dopo il contatto da dietro e lì io so già già conosco ci sono mille polemiche fanno di manli marta league pimpi ma vabbè ma non parliamo anche di depresi arbitrali perché non c'è da parlare di questo è quello che preoccupante che io quest'oggi volevo una dimostrazione di squadra forte e questa sensazione non l'ho avuta siamo a fine ottobre e presto per parlarne forse di essere preoccupati di questa campione di serie a non lo ma se io devo vedere nello storico diciamo recente mi sembra di vedere l'inter 2021 2022 e quell'inter lì che stiamo vedendo perché non è possibile subire tutti sti gol cioè ci sta una partita che dici boh però troppe distrazioni dietro cioè non c'è ma poi sul 4 a 2 manca mezz'ora in zaghi deve anche saper gestire certe partite cioè io do colpe anche allenatore ma che è giusto darle ma così come anche colpe ai giocatori stessi pavarra l'ho visto fermo così come anche gli altri devrai bastoni insomma non so se sono tanti troppo sull'offensiva oppure non so ma io ogni volta che anche se siamo in vantaggio di due gol non sono mai tranquillo quest'anno ed è successo tante volte anche con chi era ma ecco l'udinese col toro eravamo in vantaggio di due gol e poi abbiamo rischiato di farci rimontare e con la juve invece è successo perché di fronte avevi la juve pensi se dovesse capitare in champions league una cosa del genere se vantaggio di due gol di far rimontare come un ebete e ragazzi ora bene o male non abbiamo perso l'importante era quello però per come è arrivato a questo pareggio è una mezza sconfitta diciamocelo chiaro un peccato un peccato mi mi brucia un sacco stasso pareggio già contro il genoa prima giornata dicevo la prima giornata è agosto e vabbè le partite d'agosto anche la nichevole io vi dicevo quando stiamo parlando ci può stare gambe imballate gioca squadra non completa anche quest'oggi a squadra completa perché mancava c'erano lunga va cerbi per carità però può succedere può succedere che ci sono delle assenze quindi non abbiamo delle riserve all'altezza cioè ci facciamo tante domande provare in realtà non è quello che è non lo so fatto sta che quattro pari mi brucia un casino cioè su 4 a 2 su 4 a 2 dove gestire una partita difficile per carità però non lo so poi comunque ci sono mangiati un sacco di gol anche su 4 a 2 quello quello da dire certe volte se non siamo lì in area che non si capisce bene cosa devono fare se devono fare un dribbling i dribbling non sapevo fare non sapevo saltare un uomo è quello che lo dico da anni non abbiamo un giocatore pucana potrebbe essere uno di quelli l'unico che mi ricordo che per poco che ho visto perché è sempre sempre rotto che riesce a puntare un difensore saltare una volta più il tanto l'unica volta che l'ho visto è stato di bastoni una volta contro quello lì contro la roma con di bar ha saltato con il mezzo dribbling ma quello non conta nulla non deve farlo lui deve farlo gente come lautaro gente come turammo ogni tanto riesce ma rare volte e la juve invece cosa c'ha c'ha flavio con se sa che che non lo fermi il diz è similare come ruolo ecco cosa fanno ti 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 mettono la palla in mezzo blano ce la mette dentro la tattica della juve più o meno è quella e ci siamo cascati quattro volte praticamente quattro volte no perché la quarto gol è stato lì anche lì un contropiede un lancio e gol ci sta comunque la bravuta degli avversari e bisognava anche sottolineare quello non è che di fronte avevi pizzicatore però tanti gol sono evitabili e questo che sta squadra qua tra gennaio e febbraio dove dove ce la troveremo sta squadra in quale parte di classifica nel senso siamo ancora lì ancora presto beh siamo solo a meno 4 da napoli non è non sono irrecuperabili però io giocamo sempre a meno uno se lo potevamo allontanare in realtà è sempre lì comunque comincio a preoccuparmi non ero non ero tanto non volevo ma dopo stasera io mi preoccupo perché subire così tanti gol sebbene ne fatti quattro ma subirne quattro altrettanti in questa maniera sinceramente io sono preoccupato stasera sono preoccupato adesso vediamo mercoledì con l'empoli che riusciamo a combinare non sarà una partita facile e se faremo una partita ogni tre giorni vediamo se riusciamo a tenere a tenere botta ma stasera ho visto un po di lacune e in zaghi dovrà lavorarci parecchio presto ragazzi sempre forse inter ci vediamo prossimamente statevi bene buona settimana ciao